70.000 mi piace 70.000 like Awe di In Caccia di Granny Avevo scommesso che una ragazza mi avrebbe dato tre baci Cardo, dose e cuione Mamma sarai figlio di me Grazie mille Ragazzi qui Awe dove è Todd Non posso orlare perché ho le crisi di identità Siamo per strada Dove siamo? Siamo a Milano cari amici di Striscia Siamo tornati oggi in un nuovissimo video In collaborazione con Perle di Caramella Ci sono tipo questo braccialetto E siccome siamo in tema natalizio Ah no a sorella non siamo in tema natalizio Siamo in tema San Valentino Cosa farò? Importunerò le ragazze Le molesterò proprio emotivamente Nel loro animo e le farò proprio sentire a disagio Con loro stesso perché ci proverò con loro Perché cosa vuole la leggenda delle Perle di Caramella? Ogni qualvolta io regalerò Questo braccialetto a queste ragazze E loro dovranno darmi un bacio Io apro una scommessa Giuseppe Avrò tre baci in bocca da una ragazza Secondo te? Tre baci in bocca da una sola ragazza Cos'è? Vuoi arrivare pure al sotto? Non te ne basta uno Tre C'è un po' un'ansia che sta Tipo qualcuno mi picchia Guarda cosa è Cominciamo a molestare queste prime tre ragazze A voi piace essere molestate A San Valentino cosa si fa? Si mangia un bello No! Ora voi dovete darmi un consiglio Su cosa regalare a San Valentino La prima cosa che io magari potrò regalare a una ragazza Come un simbolo del nostro amore E' questo Poi il secondo regalo E' questo Non lo riempio io Ha il suo perché Tipo perché l'hai comprato Il primo reggisino antistupro questo L'ultimo E' questo bracciare Perla di caramella Questo è un bracciare Tu sai cos'è un bracciare? Certo! Ne ho tipo 80 Ah l'hai contati Si l'hai comprato Cos'è il razzismo nei confronti della mia Quale dovrei regalare ad una mia ipotetica ragazza? Un bracciare Questo Si io questo Questo La tradizione è che se io ti regalasse questo Tu in cambio devi darmi un bacio Eh A stampo? Dai a stampo A stampo è veloce e in dolore Vedi questo è per San Valentino Quindi ti regalo il bracciale Vedi che funziona? E noi vendiamo Allo spagnolo Domingo San Valentino Si L'uomo regala Un regalo Si Alla ragazza Alla ragazza Alla chica Alla chica Esatto Io mi eccito quando sento lo spagnolo Non mi inquadrate in basso Allora Sono indeciso su quale regalo fare Ah vale Chierisco che ti aiutiamo Il primo Che vogliamo proprio regalare Magari poi quando ti innamori di una ragazza Te chiedo Te chiedo Te chiedo Una chiave inglese Il secondo Che proprio dici Te chiedo Te chiedo Te chiedo Questo Alla E' un seguito Adesso Il terzo ed ultimo E' questo Tra i tre Quale mi consiglieresti di regalare? Este La tradizione Vuole che Se tu Accetti questo Regalo Devi darmi Un basito In cambio Porta fortuna Porta fortuna Dai suerte Mui muy suerte Ma suerte Ma suerte di quelle là Para mi suerte Ti dergo ti aspetto Zu Il dubbio assoluto Ma si Quale va Ah Innanzitutto tu, do you prefer about the three things? I don't kiss you Goodbye my lover Because I have a boyfriend Your boyfriend is iscritto al mio canale Yes, this is a friendzone Abbiamo importunato un'altra ragazza ancora, l'ennesima, come ti chiami? Jessica Dove sei? Di Belgio Di Belgio, è la generazione di belle Belgio dove? A Ambersa? No, a Diege A Diege, lei è di Diege, la famosissima città famosa per le... La festa La festa, tu vai là, c'è la festa e vai via Domenica è San Valentino, no? Ti sei fidanzata? No Ti sei chiesto il perché? Ho bisogno di un tuo aiuto per un regalo da fare a San Valentino ad una ragazza Primo oggetto, là c'è la festa dove... Andate alla festa invece, che è particolare, no? Questa cosa è la festa che... Andate con confidenza che ti regalo questo Magari questo... In Belgio ci sono questi? C'è la festa in Belgio, c'è questa festa che... Poi il terzo ed ultimo regalo sarebbe questo Ok? Un bracciale Quale scegli? Sì, la festa Ok La tradizione, in Belgio ci sono le tradizioni, ci sono solo feste lì La tradizione di questo bracciale vuole che se io ti regalo questo, tu in cambio mi devi dare un bacio Un piccolo bacio? Un bacio Un bacio? Un grande, non siamo qui a... Cioè, io oggi ho un'altra da fare per dire Ok? Prima di registrare questo video avevo fatto una scommessa con un mio amico Ok? Ci sono le scommesse in Belgio, ci sono solo feste Avevo scommesso che una ragazza del Belgio proprio mi avrebbe dato tre baci Ok? Questo è il primo Il secondo, che dopo la festa è che è questo Poi c'è il terzo Che magari arriviamo a quattro Però metti caso qualcosa che si fa così E il terzo proprio così E basta, non è qui veramente passiamo 100.000 like 100.000 like subito Allora, abbiamo alzato anche un po' il target Perché prima ho fermato No, 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 tu sei una ventenne, si vede questo Domenica e San Valentino La festa Degli innamorati loro In pratica, io devo fare un regalo ad una ragazza Ho bisogno del tuo aiuto per sapere il regalo da fare a questa ragazza Ok In pratica, il primo regalo che magari volevo fare proprio alla mia ragazza Avevo pensato che proprio Non so se ti è mai capitato da un ragazzo Ti abbia mai regalato quello che ho cercato Che è morbida la parola Il primo regalo proprio in assoluto Che ho fatto Che volevo proporre da questo Oh my god A Giustami la bici Tipo la trama di un film porno Sembra quello della Giustami la bici Poi Poi il secondo Magari quando si entra un po' in più in intimità Possiamo entrare in intimità con un uomo Eh ci manca il film Allora domandavo Il secondo in assoluto Che proprio diamo 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 era questo Wow Ci sta Piccolo È piccolo È piccolo Minimal shit Minimal shit Qua il terzo ed ultimo è questo C'è questo bracciale Wow Col caramellina Essendo scegliere Dai tre Quali sceglieresti Forse è questo Io posso regalartelo Se tu mi dai un bacio in cambio Se prendo questo Devo regalarti un bacio Esatto Dove? Mamma Sarai fiero di me Grazie mille Madonna mia Madonna Lo sai noi a Napoli come diciamo Chiaviamo E poi una cosa che 70.000 mi piace 70.000 like How it in caccia di granny Quindi che dire Il video termina qui Fatemi sapere con un commento qui sotto Se le mie molestie vi sono piaciute E noi ci vediamo ad un vecchio video Perché io di noi non ne faccio più Basta Mi sono detto il cazzo Basta Giuseppe 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 non mi inseguire Giuseppe Giuseppe